Fanatici diacoloniani, eccoci ancora trovati sul nostro canale Teikoku Destro, mi è appena arrivato oggi un bel pacco di amazon japan con due prodotti che aspettavo da tanto tempo, specialmente uno che è traibas, traidasha, è appena arrivato adesso, adesso vi presento, faccio vedere un po cosa c'è nella scatola e faccio una review, un unboxing velocissimo, poi nei prossimi giorni lo apro e ci giochicchio un po' e vi faccio un altro video. Allora, ovviamente qua l'ho già aperto per fare la review in giapponese e qua nella scatola troviamo il libretto di istruzioni, con il Fukubukuro presento che ovviamente così non l'ho mai fatto, chissà che premio ti danno, eccetera, questo è il libretto di istruzioni, poi abbiamo il nostro trydash, trydash, ho detto che la scatola in se stessa è più piccola di quanto mi aspettavo, però il trydash in se stesso lo vedo abbastanza corposo e lo facevo ancora più piccolino, invece veramente ha un bel volume, abbiamo, innanzitutto tolgo la parte qua sopra, che con questa si vede male, eccoci qua, diamo un'occhiata per la troviamo qua dentro, per prima cosa abbiamo, ovviamente le tre parti che compongono il robot, abbiamo i vari pezzi per installare le varie armi, le due spade, che sono molto molto carine, e questi che dovrebbero essere due fucili, poi i dianauti che sono, wow, che sono visto così una donna e un uomo, e poi abbiamo le varie parti che compongono il robot, partiamo dalla prima, che è la Baletto Massin, Baretto Coa scusate, che è veramente, proprio bello, come viso, è molto, un viso quasi da super robusto, lo vediamo, perché anche le labbra, eccetera, ok, questo può essere tirato giù così, così possiamo aprire il nostro cockpit, il nostro abitacolo, e vediamo che ci sono anche proprio, degli specchi di, un affare per bloccare proprio il pilota dentro, come quelle delle montagne russe, se vogliamo, ok, poi comunque faccio un'arrivia più accurate, nei prossimi giorni, il secondo, che è la Top Machine, che fa parte del corpo, dove poi va dentro la nostra, come si chiama, Baletto Coa, con le mani, ovviamente, che si possono aprire, tutto il resto, impugnare le armi, e poi l'ultima macchina, che è la Bottom Machine, con le caviglie, che ovviamente sono snodabili, per fargli prendere tutte le pose volute, possibili, anche le giunture sono belle durette, ottimo, 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 veramente devastante, e adesso, ci diamo anche un'occhiata, alla parte dietro della scatola, dove è spiegato un po' tutto, cioè, le modalità, con cui si può trasformare, ovviamente abbiamo i vari pezzi, il Baletto Core, la Top Machine, il Bottom Machine, ok, e poi le modalità, che sono il Machine Mode, il Mecha Mode, e poi, come si chiama, la versione Robot, per il combattimento, per il combattimento più, più tosti. Ecco così, niente, e come vedete, la scatola è molto, molto compatta, e questo va benissimo per chi, come me, ha problemi di spazio, vabbè, che immagino che, stando in Italia, siamo in problemi di spazio, che in Giappone, però, lo spazio è sempre un nostro nemico di noi, e facciamo correzione. Ok, questo era un video velocissimo, finisce qua, e ci vediamo nel prossimo video, che farò un po' più accurato, ci giochichi un po'. Ciao ciao, brava gente, ci vediamo alla prossima. Tego Kudestron!